Quali sono le differenze tattiche tra il Napoli di Spalletti dell'anno scorso e il Napoli di Garcia di quest'anno? Stesso modulo ma interpretazioni e soprattutto principi completamente diversi. Andremo ora a vedere due partite, una dell'anno scorso contro Sassuolo e una di quest'anno contro Genoa, per andare ad analizzare quelle che sono le differenze principali. Già dal calcio di inizio possiamo vedere la propensione offensiva che aveva il Napoli di Spalletti dell'anno scorso. 8 giocatori in linea e palla sempre in avanti. Allora intanto faccio una premessa, io non sto a giudicare chi sia più bravo e quale sia il modulo migliore. Guardo le differenze e cerco di capire cosa è cambiato tra i due anni. Allora già all'inizio nella prima azione vediamo come il Napoli cerca subito di giocare in verticale. Sia con Lozano che con Osimen nella prima azione attaccano a profondità e questa è un pochino proprio la grande differenza tra i due anni. Tutti i giocatori, terzini, mezzali come vediamo adesso, attaccanti, punta centrale, punta esterna, hanno proprio l'idea di attaccare sempre a profondità. Il Napoli non è una squadra che non giochi a calcio, quella di Spalletti, anzi cerca la manovra però arriva sempre a un certo punto che sente quasi il bisogno di attaccare in avanti. Anche con azioni come questa che non sono particolarmente pericolose però dopo un certo punto Osimen attacca la linea e già con i centrali cerca subito di andare a profondità. Non sono sempre azioni chiare ma dimostrano come sia una squadra che cerchi sempre appunto di andare in avanti. Come vediamo in quest'azione proprio un po' con tutti i ruoli attacco alla profondità come in questo caso sia con la mezzala con l'esterno alto offensivo. È proprio nel loro DNA la voglia di attaccare a profondità e soprattutto da parte di chi ha la palla di servirli. Sono tutte azioni che hanno questa prerogativa. Anche in questo caso Osimen in mezzo a due centrali appena ha la possibilità va in avanti e il compagno non vede l'ora di servirlo e di dare una palla oltre la linea difensiva. È una squadra proprio che alterna bene queste due fasi sia il momento di possesso sia il momento di attacco. Qui per esempio è il primo gol che fanno in questa partita e con il terzino appena possono vanno in avanti e attaccare lo spazio. Lo fanno in continuazione da tutte le posizioni. Qua ad esempio è Cavra che in una risalita della linea difensiva si butta nello spazio e attacca la linea avversaria. Anche nella fase difensiva Spalletti dà intensità. Appena la squadra perde la palla subito e immediatamente hanno una quasi rabbia feroce nella ricerca della conquista. A volte anche in maniera disorganizzata ma sempre infrontata ad attaccare in avanti. Sono movimenti coordinati perché il 4-3-3 richiede questo tipo di coordinazione tra i vari reparti per andare a prendere perché quando hai per esempio quattro difensori hai tre attaccanti e devi usare un centrocampista o un altro giocatore di un altro ruolo per andare a prendere. Però hanno proprio questa aggressività, questa indole ad andare sempre in avanti e andare a prendere. Non è più un discorso di reparto ma proprio di riferimenti e di voglia di vincere i duelli. Anche in quest'azione vediamo che cercano sempre di aggredire in avanti, di togliere spazio e tempo alla linea avversaria e anche la linea difensiva utilizza il lavoro degli attaccanti per accorciare i suoi propri riferimenti. Nel momento in cui dopo magari c'è qualche spazio in più si cerca ancora i riferimenti, le coperture ma sempre con l'idea di andare in avanti. Nella stessa partita abbiamo visto due gol nell'attacco a profondità e uno invece proprio per questa aggressività a tutto campo. I giocatori del Sassuolo hanno sempre due giocatori addosso e questo tipo di aggressione gli fa sbagliare e crea un'opportunità per il quarto gol del Napoli. Adesso andiamo a vedere invece la fase offensiva di Garcia che appunto io non sto giudicando perché è un tipo di gioco che ha bisogno di tempo, ha bisogno di fiducia, ha bisogno appunto che i giocatori prendano confidenza con quello che fanno, però l'idea è di comandare il gioco con più costanza, anche con un fraseggio più prolungato, però con meno ricerca della verticalità, dell'attacco da profondità. In questo video vedremo infatti come tante volte ci sono anche dei movimenti che sono un po' anche dei ricordi dell'anno scorso dove vediamo tanti giocatori attaccare a profondità ma che poi non vengono seguiti. Vediamo come gli attaccanti si devono abbassare tipo Cocavra a prendere la palla perché hanno proprio bisogno di toccare la palla e quei tipi di movimenti synchronizzati non ci sono. Lo stesso Ozyman lo vediamo molto più statico e meno improntato ad attaccare la linea. Sono tutte situazioni che invece anche quando non c'erano spazi come in questo caso erano sempre improntate ad andare in avanti. è una squadra che manovra, che partecipa molto, che ha ancora nel DNA di certi giocatori l'idea di partire come vediamo adesso l'attaccante di destra che si butta. Quello che manca è il compagno che li vede e che gli serve. Quando si vuole attaccare a profondità due sono le componenti fondamentali. La prima appunto chi attacca e la seconda il compagno che lo vede e lo serve. Nel Napoli di Spalletti questa idea era molto marcata e chi aveva la palla guardava sempre in avanti per verticalizzare. In questo caso, vediamo anche adesso questo movimento, nel video di prima l'attaccante sarebbe stato servito. Invece qua si preferisce mantenere il possesso e si continua un tipo di manovra prolungata però che poi al momento è meno efficace. Tutti i movimenti sono abbozzati però sono poi dopo quasi strozzati sul nascere e portati andare indietro. Continuiamo a vedere ancora Ozymane come non attacca mai la profondità e come diventa difficile per lui partecipare al gioco perché tocca particolarmente pochi palloni. Anche qui sarebbe stata una di quelle situazioni dove Ozymane sarebbe partito però non lo vedono e non ripartono. Azione successiva ma concetti uguali. Mantenimento del possesso, controllo della gara ma difficoltà a guadagnare campo e a creare opportunità. È un gioco che ha bisogno di tempo. Anche qui vediamo come la mezzala ce l'ha come un pochino l'anno scorso l'idea di buttarsi ma non viene servito. Anche questa è un'altra palla che l'anno scorso sarebbe stata giocata in avanti ma uno il terzino guadagna campo e sceglie diversamente. Poi c'è sempre uno sviluppo ma manca questa immediatezza tra chi vede il giocatore partire e poi dopo lo segue immediatamente. Sono tutte azioni che hanno bisogno di creare uno step successivo cioè guadagno campo ma per portare una delle conclusioni delle opportunità. Logico che quando tu sei una squadra come il Napoli che è abituata a vincere in una certa maniera cambiare idea non è non è facile perché ti costringe un pochino anche a rinegare quello che hai fatto tutto l'anno scorso. Questa è l'ultima azione e anche qui si vede quanto spazio ci sia ma come il terzino non lo guardi nemmeno e torni indietro proprio immediatamente. Nella fase difensiva si è persa un pochino di aggressività. Il Napoli è una squadra che è ordinata alle giuste distanze tra i vari reparti ma ha perso questa ferocia, questa voglia. Vediamo anche adesso su queste immagini appunto come sono belle le distanze. Ha perso la ferocia, ha perso l'idea di andare tutti assieme ad aggredire anche magari perdendo le distanze tra i vari reparti ma rimanendo aggressivo. Qua c'è per esempio l'attaccante di destra che parte ma parte da solo. Prima vedevamo la squadra sempre partire assieme adesso non fa più e quando lo fa perde le distanze ed è meno coordinata. Un pochino in tutte queste situazioni vediamo come invece di andare in avanti è costretta a scappare indietro proprio perché sbaglia i tempi e nel sbagliare i tempi concede lo spazio all'avversario per andare in avanti. È una squadra organizzata ma che ancora deve prendere compattezza e deve soprattutto prendere intensità. Anche contro il Genova in certi momenti ha fatto fatica a trovare le distanze spesso e volentieri anche la linea difensiva un pochino si è aperta e si è allungata ma soprattutto arriva in questa maniera sempre seconda sua palla. Quando tu vuoi essere aggressivo devi partire senza pensare. Se inizia invece a metterti in ordine tante volte perdi quel mezzo secondo che fa sì che anche se sei ordinato come adesso però lasci tanto spazio all'avversario e quando puoi cerchi di conquistarla arrivi sempre con mezzo secondo di ritardo.